Sono entrato dentro una casa di cura a fare le pulizie, da lì la direttrice mi ha visto come trattavo gli ospiti e mi ha parlato del corso d'ossi. E' andato tutto un po' così per caso. Ho deciso di andare avanti, di specializzarmi su questo lavoro. La formazione è molto dettagliata e mi ha fatto conoscere tutto il settore dell'assistenza. Ho dato tutte le conoscenze che ho sul settore, quindi se mi hanno fatto i compiti e che lavoro bene qualche motivo ci sarà. E' stato molto articolato per fattori esterni, comunque sia tramite TAD, tramite incontri. E' stato un percorso soddisfacente e sono stato molto aiutato dalle ragazze della segreteria nel fare il tirocinio, come gestirselo col lavoro. Mi hanno dato una grande mano, perché lavorando con cui si integrando il tirocinio col lavoro non era facile. Quindi c'è stata la massima disponibilità e la massima serietà. Sono stati bravi, formati, con pazienza, ci hanno spiegato bene le cose, sono stati molto miticolosi. Soddisfacente, emozionante, duratura. Consiglio la Training Academy come scuola di formazione, in quanto è un percorso formativo reale. Consiglio la Training Academy come scuola di formazione, in quanto è un catalansco propostare. Quindi workshop, in quanto è le prezze materiale? Absolutamente ok, ci hanno spiegato bene le cose, ma del poloetztare le cose, sono stati forti. IlЕН atualmente non è una squadra. In quanto è앙 ga, è arrivato nel region. Aggiù di 민ia, in quanto è un compitto.